Un saluto dal Tg della mobilità a case rosse per il cedimento di un tombino a via Corropoli le linee di bus 040, 041 e N041 sono deviate. La 040 in direzione lunghezza passa su via Turri Valignani e via Morrodoro, quindi torna a via Corropoli. La 041 verso Ponte Mammolo dal capolinea di Alba Adriatica inverte la marcia su via Morrodoro e riprende il normale percorso. Di notte la N041 diretta alla stazione Tiburtina dal capolinea di Largo Alba Adriatica devia in via Turri Valignani, via Morrodoro e via Corropoli per poi riprendere il normale percorso di linea. È tutto, appuntamento alla prossima edizione. Grazie